Ragazzi, oggi la situazione è molto 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 grave Non sono qui a prendervi in giro, non penso passeremo a questo turno, a questo punto Però, finché non si arriva a 4, le serie di playoff non sono finite Abbiamo vinto 31 partite di fila, 72 non hanno, non vedo perché non possiamo vincere 4 di fila e vincere 4 a 2 questo primo turno Questa è la partita ragazzi che o ci fa rinascere o ci condanna definitivamente a una scoffita alquanto Imbarazzate, non ci saranno tante parole in questo video ma spero solo una vittoria Eccoci qua ragazzi, Palace di Auburn Hills, siamo qui un palazzetto gremitissimo ovviamente Tutte le magliette rosse, noi siamo in bianco oggi, va bene così Veramente questo palazzetto non vibrava in questa maniera da almeno un 3, 4, 5 anni Dai tempi di John Sybilus e compagni, subito andiamo sotto 2 a 0 Oggi ve lo dico subito, voglio avere delle mani più possessi possibile Che se dobbiamo perdere almeno sia per colpa mia, non come è successo in gara 1 e in gara 2 Che ho lasciato fare forse un po' troppo al computer Intanto qui diamo palla sotto a Ibert che sbaglia Tanto per cambiare l'inizio non è dei migliori, 7 a 0 sotto Adesso io sinceramente non so se andare di ignoranza Anzi dammi qua, Piccaroy con il buon Porzingo Ecco che possiamo buttarci dentro Vai dentro con la moto, ok? Non c'è il canestro ma c'è il primo fallo di Dramon che è quasi più importante Mazza se vibra i playoff, non me lo ricordavo che vibrasse così tanto Buono al primo, sblocchiamo i Knicks Se dobbiamo farne 60 ne faremo 60, non lo so, non so cosa dirvi Dobbiamo vincere questa partita Altri due liberi per noi dopo aver preso il canestro sotto di 8 In trasferta è sempre difficile giocare In tutti e da tanti NBA 2K In trasferta è sempre difficile giocare E' chiaro che quando perdi le prime due in casa diventa quasi impossibile Come è anche nella realtà 4 a 10, 4 punti nostri Vai così, vai così Vini che da 3, si che da 3 Oh, 7 a 12 l'abbiamo fatti tutti noi signori Tutti noi Ci siamo fatti trovare punti, pronti in questa gara 3 Aspetto Justice e compagni Eccolo anche il recupero Raga, raga, tutto noi stiamo facendo Tutto noi Con la schiacciata in questo post 9, ma il trofeolo 12 Detroit Pistols Eccolo qua Justice Eccolo qua Justice Eccoli qua i Knicks 10 a 2, 12 pari signori Ok, siamo vivi Primo ass di serata Justice può tirarmi fuori da questa rogna E sono sicuro Ho fiducia in lui Bella palla, bella palla Justice Orange è sbloccato Ok, ok Questa partita sta andando nel verso giusto Piano a parlare però Adesso possiamo pressare Reggie Jackson Non l'abbiamo fatto in gara 1 e in gara 2 Deve portare qualcosa in gara 3 Buttati dentro Mike Buttati dentro Mike Buttati dentro Mike 22 a 14 Mamma mia Mamma mia che primo quarto stiamo sparando in quel Detroit Adesso è il vero momento di paura 28 a 18 ci cambiano Vediamo un po' 32 a 25 Ok Abbiamo mantenuto un buon vantaggio Più 7 Dovremmo aver fatto 15 punti in un quarto Direi più che onesto Bravo Ibert Uh, era un passaggio difficile questo Ma l'ha voluto rischiare all'ioop Non c'è tempo per drucciolarsi nei replay Più 10 di nuovo 3-7 2-7 Bravo Bravo Bravi ragazzi Cristo Bravi, bravi, bravi Più 11 Dai che siamo lì Dai che stiamo giocando come si deve Questo secondo quarto un po' meno punti Qua possiamo cambiare eh Raulinho Ce l'ho, ce l'ho Ok Bravi, bravi Ok Un po' meno punti Più assist di questo secondo quarto Ed one Con rilascio perfetto Eccoli qua i punti che mancano da un paio di minuti Ottima rimessa Un po' inventata forse Ma venuta bene Non sbagliare Ma è già sbagliato uno In sta serie può bastare Forse due addirittura Più 14 Questa è la partita che voglio vedere Tenuti a 32 a metà secondo quarto I pistons Rimbalzo anche Rimbalzo Quando prendo un rimbalzo Sono perico Oddio Ho fatto un assist Perdendo la palla Fantastico Non me la segnerà mai Ma più 16 Arca Porca Eccolo il fallo di Drummond Però Siamo andati noi a procurarselo là sotto Nella terra dei giganti Il fallo di Drummond Stato a Kurt 21 punti per noi 21 punti Fate pure 22 direi 5-2 3-5 il punteggio Dopo questo time out Pistons infatti Ci cambieranno nero Sicuro Allora ragazzi Siamo a più 17 No? Dico tutti voi seduti qua No? Siamo amici Voi e noi No? E anche voi 5 deficienti in campo Allora abbiamo già preso una tripla Possiamo per piacere fare a modo Più 13 Ok Bravi ragazzi Più 13 all'intervallo Bene così Signori Parte ora il secondo tempo Dobbiamo ricominciare Dove abbiamo Dove abbiamo finito Non smettere di giocare E aspettare che finisca il tempo Ma attaccare 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 E ancora attaccare Qui comincio a capitar la palla Comincio a buttarmi dentro Comincio a schiazzare in fase A tutta di troll Taglia così In faccia 6 persone Cadendo per terra Rialzati Mike Che sennò Ce ne mettono 2 Ma come No Questo non so come l'ho fatto Signori Signori Non so come l'ho fatto Ma Altro Edwan 28 per noi Madonna Madonna Signori Se sono gasato Oh Così Così Dovano giocare Gara 1 Gara 2 Era tanto difficile Stiamo ancora lì Che non è ancora vinta Devo ancora uscire Una volta C'è ancora Una simulazione Da superare Bella finta Perché Perché Ma come scusa No dai Ma 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 fanno passi ogni azione E mi fischi C'è cosa qua Dai Era un assist Dio Bonino Siamo arrivati a 30 punti Comunque Altro Altro schiacione Raga Ma Allora In questa serie Siamo sempre arrivati In area Con questa costanza Cioè Veramente Arriviamo in area Quando Vogliamo Come adesso Drummond Bella difesa Però Dentro Dentro Così Non era da 3 No Vabbè 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 Non ci lamentiamo Non ci lamentiamo Più 22 Oh Se posso Dagli nel 40 Gliene ho 40 Sti maledetti Mi hanno fatto fare Due figure Di merda Le prime due partite Che a metà basta Ci cambiano per questi ultimi 30 secondi Terzo quarto E probabilmente Un paio di minuti Del quarto quarto Una simulazione Che anche se va male Non dovremmo ritrovarci Pari 90 Spero No Insomma Può andar male Ecco Esatto 97 A 69 Bene Direi che 7 minuti Potrebbero diventare Di garbage time Justice Mettimi sta bomba Dai Scrivi sta parola fine Su questa minchia Di partita 103 A 77 Più 26 Fuori dalle balle 2 A 1 Signori Nella serie E' ufficiale Scrivete pure La parola fine Scrivete pure Prestazione Lebroniana Di Lebroniana Memoria Per Mike Tropeone In questa gara 3 Così Per mettere Proprio La ciliegia Sulla torta Spin move In mezzo a due persone Mamma mia Arriviamo a 39 39 Praticamente Non giocando Il quarto quarto Perché avevamo già vinto La partita Nianca mal Direi Finisce così Allora ragazzi 39 4 rimbazzi 9 assist 2 recuperi 3-4 Palle perse Una partita Totale Veramente Da Follow my lead Alla Lebron 110 A 86 Grande vittoria Però attenzione Non gasarsi Perché dobbiamo tornare qui In gara 4 In gara 4 Nel prossimo episodio A fare la stessa Identica partita Non farla Neanche Cominciare E direi che avevamo rischiato Con quel 7 a 0 E 12 a 2 Iniziale Per loro E nel frattempo Che Kenny Smith Ci intervista Facendo la stessa Solita domanda Che abbiamo visto 100.000 volte Rispondiamo Che siamo stati noi Il fattore chiave Perché questa sera È vero 39.9 Come potete vedere Lì MVP Di serata Prestazione Tra l'altro Da MVP Del MVP Come diremmo Tranquillo Comunque A parte le Minchiate Io spero che questo video Si è piaciuto Lasciate un bel mi piace Questa volta Sì invece Dei non mi piace Ve lo chiedo Il mi piace Iscrivetevi al canale Se avete ancora fatto I miei social Sono in descrizione Lasciate un bel commento Su chi pensate Vincerà questa serie E ci vediamo domani Con un nuovo video Bella